LUCERTO L'ERDEMONIO La volta she老 hath La volta she해서 Siete formalmente invitata a D8 a febbraio Presso l'Università di Parigi Dove affronterete incertame poetico La persona del VAT PIVIPPO CONTIER L'ho già detto, ero a scuola Però sei entrato con due ore di ritardo Perché volevo evitare un'interrogazione Non l'hai sentito, voglio dormire Mi state sbagliando Io non l'avrei mai fatto Io non ho ucciso mia madre Seguitemi madame Tutto avrà inizio solo quando sarà presente Un magnifico reggente accademico Che vi attende Era divertente Scavalcare, scrivere di nascosto E poi era per star nel gruppo, no? Anche se mi hanno lasciato solo Io non mi ero accorto di niente Ma mentre stavamo là Don Mario è sbocato fuori all'improvviso Loro sono scappati E io sono rimasto là come uno scemo Così quello mi ha preso e mi ha dato una pizza in faccia